Siamo particolarmente felici di questo esordio della decima edizione del Festival Mediterraneo della Laicità che rappresenta un piccolo traguardo per un grande tema che ci sta a cuore perché è il cuore di un problema di dialogo e di condivisione che non finisce mai di essere necessario. Nel ricordarvi che il tema di quest'anno è quello che abbiamo scelto perché proprio segna anche una rivoluzione di questo nostro periodo storico, che è quello dell'offerta e della scoperta del web. Internet è tutto ciò che di positivo ma anche di problematico porta con sé e sempre più sarà necessario riflettere sul significato di questa rivoluzione. Articoleremo i tre momenti di contributo partendo dalla nostra carissima Midia Menapace, poi Eleonora De Concilis e infine Antonio Ciancarelli, ciascuno dei tre avrà mezz'ora a disposizione per poterci dare appunto un contributo di riflessione. Finito questo tempo noi ci auguriamo che da parte vostra ci sia il desiderio di una partecipazione diretta con le vostre domande, le vostre suggestioni e quindi questi sono i tempi, questo è il tema e questi sono i nostri ospiti. Lascio a Michele Neomartino di presentare in maniera adeguata una carissima amica che è veramente un faro nella nostra vita civile, sociale e anche di genere. E poi a seguire gli altri amici che parleranno. Grazie. Grazie. Non mi addentrerò nel presentare Midia Menapace perché suppongo che sia quasi inutile vista la caratura del personaggio. L'unica cosa che bisogna dire è di ringraziarla per i suoi tanti doni che in questi anni ha voluto offrirci a piene mani con i suoi contributi. Mi riferisco all'esperienza che ho direttamente personalmente, prima da senatrice e poi da scrittrice e in altri ambiti della vita sociale. L'unica cosa che mi dico un grande grazie, io devo tantissimo a Lidia perché le sue analisi mi hanno aiutato molto, almeno non sono il solo, a comprendere la modernità. Direi, dico una cosa sola, che non c'è, uso un'espressione forse non adeguata per una pacifista come Lidia, non c'è Battaglia, non c'è Lotto del secondo novecento, ma veramente tutte, che non abbia visto Lidia in prima persona spendersi come sa fare solo lei, con una passione, una dedizione unica e rara. Grazie Lidia. No, grazie a te. Io che ho un cuore di tigre sono quasi commossa, quindi pensate un po'. Allora, buonasera a tutte e tutti, prima tutte e poi tutti, sempre, perché potrebbe essere per cortesia, la cortesia è un dono, si ringrazia, punto e basta, se non c'è non si può fare niente, ma invece tutte prima per diritto, quindi se non veniamo prima si può protestare, perché noi abbiamo il diritto di essere nominate per prime, c'è un proverbio trentino, abito a Ponzano, trentino è molto vicino, fa parte della stessa regione, che dice nelle case dei galantomeni, prima le donne e poi gli uomini, senza una doppia, perché un trentino si farebbe torturare piuttosto che dire una doppia, quindi le donne. No, ma non è per questa ragione, è perché noi siamo di più, e quindi veniamo prima, ma di più quanto, sapete quante sono le donne più degli uomini in Italia? 2 milioni e 300 mila circa, non un numerino da poco, e quando lo dico c'è sempre qualche maschietto, come si suol dire, che diciamo adesso ci mettiamo in regola, ma guarda che noi abbiamo dato un milione di voti più degli uomini alla Repubblica, nel referendum Monarchia Repubblica, i voti delle donne dati alla Repubblica erano un milione più dei voti degli uomini, quindi i dati vengono regolati, se no verso il 3003, siamo ancora qui che aspettiamo che voi vi inventiate a posto con i numeri. Allora, faccio sempre questo piccolo rimbrotto iniziale, così mi affeziono il pubblico, insomma, sa che non si viene per passi dei complimenti qui, per dire possibilmente fuori dai denti, quello di cui si è convinti e convinta, con l'idea che in questo modo si fanno dei passi avanti, perché ciascuno complimentando si ripete le solite cose, siamo sempre allo stesso punto, dopo un po' viene a noi a pressione di complimento. Invece qualche volta ci sono molte bellissime amicizie che sono nate da fuori bonde litigate, perché c'è un confronto e dopo ci si mette d'accordo, ci si pacifica, basta che non ci sia un prosieguo di odio, o non si concentrino dei sentimenti negativi, insomma, non voglio farla morare su questo. Ma per quale ragione ho suggerito, comunque ho accettato molto volentieri, che si parli, in questa occasione del decimo anniversario del Festival sulla laicità, si parli del patriarcato. Io mi sono convinta che la più importante invenzione teorica della seconda metà del secolo scorso è la scoperta della complessità. La scoperta della complessità è stata fatta da un sociologo tedesco di destra, ma molto intelligente, il quale dice che la complessità mette fuori gioco tutto il discorso politico, perché il discorso politico dei partiti, delle istituzioni, eccetera, è fondato sul primato dell'uno e invece la complessità parte perlomeno dal due. E su questo io sono assolutamente d'accordo e da di ragione, è vero, è una scoperta importantissima, non è l'uno, non è ciò da cui si comincia, ma almeno il due. E fino a qui, benissimo, sarà di destra lui personalmente, ma quello che dice è giusto, io lo provo, diciamo, modestamente imitando Marx, che al momento in cui Adamo Smith scrisse la ricchezza delle nazioni, disse ha ragione lui e non i socialisti tuttoquisti che sembravano tanto più di sinistra, ma chi si prendeva, chi vedeva che cosa stava succedendo, cioè che l'applicazione delle macchine alla produzione sarebbe stato un balzo nella storia dell'umanità assolutamente importante, quindi Marx disse ha ragione lui. dopodiché lo criticò sul plus valore, eccetera, eccetera, non voglio rifare questo, ma insomma ho citato Marx tanto per avere un esempio che mi rafforza, insomma, come Marx anch'io, modestamente, eccetera. Allora, come mai la complessità, almeno a mio parere, è così importante da obbligarci a ridiscutere tutte le dimensioni, i concetti, i linguaggi di cui ci serviamo, perché appunto la complessità obbliga ad affrontare una realtà che non è riducibile. Tutta la storia del pensiero umano, in particolare quella dell'Europa che è sul pianeta un piccolo spazio, un piccolo spazio di luogo e anche temporalmente non è più, cioè sono dei popoli più antichi di noi, però ha un significato particolarmente importante perché dall'Europa vengono tutte le lingue culturali del mondo, le più importanti lingue culturali del mondo sono nate in Europa, prima il greco e il latino, poi il latinologo, cioè il latino ecclesiastico come lingua, diciamo, tendenzialmente universale, e poi anche l'inglese, il tedesco, l'italiano, il francese, lo spagnolo, il portoghese, pensate un po', sono tuttora delle lingue importantissime in tutto l'universo e quindi questa cosa è molto importante nella storia del nostro piccolo continente. Questi linguaggi sono tutti influenzati dalle tre grandi religioni monoteiste, ebraismo, cristianesimo e islam, che sono tutte e tre sono sviluppate dal Basilio del Mediterraneo in fuori e che hanno segnato moltissimo la storia perché il fenomeno religioso, anche magari un po' indefinibile, anche incerto, però è certamente un fenomeno che ha coinvolto tutti i popoli in tutti i luoghi, in tutti i tempi. Noi ne abbiamo memoria, in particolare si è consolidata questo primato delle tre grandi religioni monoteiste che sono considerate le tre più evolute che esistono al mondo. E il principio, il suggerimento che da questo uso delle religioni monoteiste arriva al mondo laico alla cultura alla scuola alla ricerca è che l'uno è il meglio di tutto. Il monoteismo infatti segna queste tre religioni. Allora, che l'uno sia il meglio di tutti di tutto a me non va tanto a genio anche perché se è uno è maschio questo mi dispiace due volte perché l'uno riduce tutto quanto e riduce a un soggetto che mi esclude. Cioè quello lì e poi eventualmente arrivo io generalmente non mi si cita nemmeno tant'è vero che io ho dovuto ricordare che bisogna sempre dire buonasera a tutte e a tutti se no avrei sentito dire come quasi sempre buonasera a tutti punto fine noi che siamo le donne che qui le donne sono più degli uomini paresemente visibilmente saremmo state non citate nemmeno ricordate nemmeno la nostra esistenza insomma viene ricordata voi dice vabbè ma cosa importa ma allora vi dirò che non sapete perché c'è questo uso grammaticale i grammatici dell'umanesimo del 1400 volendo trovare nell'italiano la terza classicità dopo quella greca e quella latina facevano usavano mettere a confronto queste tre lingue e scoprirono che l'italiano era molto ricco c'è le ricerche per dimostrare che per una parola latina ce ne sono tre italiani eccetera eccetera ma ripassando le regole ne fissano una le regole grammaticali sono molto spesso più asprete naci dai dogmi questa regola per esempio che dice in italiano nelle concordanze prevale il maschile nessuno la sposta eppure il verbo prevalere non è molto democratico perché prevale in italiano prevale il maschile ma i grammatici che stabilirono questa regola erano molto convinti di quello che dicevano quindi dettero anche la motivazione che noi un po' ipocritamente sottacciamo allora la regola intera è in italiano nelle concordanze prevale il maschile come genere più nobile vi prego perciò di violare questa regola perché non noterete mai da me che io riconosco di appartenere a un genere un po' ignobile mi permetterete quindi per piacere siccome nelle lingue l'unica regola intangibile è l'uso se tutte noi donne che soprattutto siamo di più ci mettiamo a usare sempre il linguaggio che si dice inclusivo cioè gli uomini e le donne i ragazzi e le ragazze i bambini e le bambine eccetera eccetera questo passa nell'uso più nessuno può avere niente da dire ma se invece noi tacciamo e lasciamo che continui l'uso diciamo del maschile prevalente l'uso del maschile prevalente diventerà legge intangibile quindi non è una cosa da poco è una cosa importante qualcuno dirà ma è noioso però vabbè sarà un po' noioso pensate per me quanto è noioso e grandevole sentirmi sempre esclusa da chi disse tutti guardandomi in faccia sta pensando che io sono un genere un po' ignobile insomma mi viene voglia di ricacciarli in gola quello che dice sicuramente non starò zitto su questo punto cercherò di implementare l'uso del linguaggio inclusivo non è che mi sono persa per strada ritorno su quello che devo dire perché il fatto che si parli molto in questo momento di difficoltà generali ma però si presume si preannuncia che stanno per finire la frase stiamo per uscire dal tunnel la crisi sta per finire me fa venire voglia di chiedere ma di che crisi si tratta crisi di che dicono a Roma bisogna rispondere prima di tutto crisi di che che cosa è in crisi io credo che sia in crisi il capitalismo questo si sottace si dice la crisi ma non si dice che cosa è in crisi allora il capitalismo è in crisi dopo circa tre secoli e mezzo di crescita di superamento del feudalesimo appunto da parte del capitalismo di maturazione del capitalismo di nascita nel suo interno della socialdemocrazia di forma di antagonismo eccetera eccetera e a questo punto di una crisi capitalistica che molti economisti sociologi eccetera dichiarano strutturale il capitalismo passa sempre attraverso crisi congiunturali fa parte della sua caratteristica ma le crisi strutturali sono invece molto più rare quella più importante è stata nel 29 1929 la crisi famosa da cui si uscì col chinesismo ma si uscì nel senso che si uscì rimanendo nel capitalismo ma trovando come si poteva rimediare in genere il capitalismo di fronte alle crisi strutturali che attraversa alla fine di tutto ricorre la guerra come strumento praticamente più forte di qualsiasi altro per riproporre il suo dominio questo è già successo infatti e io visto che faccio un po' la ricerca delle locuzioni che non bisogna usare mi pregherai di non dire mai la grande guerra per dire la guerra del 14-18 semmai la prima guerra mondiale se no l'inutile strage così la definì un papa l'unico papa del 900 che non è mai stato canonizzato per aver detto l'inutile strage riferendosi alla prima guerra mondiale e d'altra parte se voi pensate che noi abbiamo avuto 700.000 morti in guerra e 700.000 circa morti per l'epidemia di cosiddetta spagnola una famosa influenza molto forte che colpì la popolazione già indebolita dalla guerra abbiamo avuto 1.400.000 morti per conquistare se no 350.000 persone le quali non erano nemmeno tutte d'accordo che fosse particolarmente importante passare sotto l'Italia perché non erano d'accordo sicuramente su Tirolesi Bozzanini ma anche parecchi triestini non erano d'accordo preferivano che Trieste rimanesse il porto di tutta l'area danubiana piuttosto che non diventasse un minore porto dell'Adriatico e solo per l'Italia quindi come vedete anche tutte queste locuzioni vanno assoggettate a una visione critica a un atteggiamento critico ma l'atteggiamento critico come si conquista mettendosi a suggerire Kant e Hegel io dubito che questo possa essere un suggerimento generale so che per esempio mia madre quando io una volta le dissi mamma io non mi sposo gli uomini sono scemi dicono che mi vogliono bene non capisco neanche come sono fatta lei mi disse guarda per le mie figlie io ho elaborato questo codice ragazze siate indipendenti poi fate quello che volete prendete marito lo tenete lo cambiate l'importante è che non dobbiate mai chiedergli soldi per le calze perché non si può essere indipendenti nella testa se si dipende nei piedi e io trovo sia un codice di grande valore detto con la semplicità delle cose vere tanto è vero che non l'ho mai dimenticato e ogni volta che mi capita l'occasione lo ripeto trovando generalmente consenso allora se noi ci troviamo nel bel mezzo di una crisi strutturale di quel sistema capitalistico di cui ho parlato il cui principale pregio è quello di avere applicato l'uso delle macchine della produzione di merci perché questo è il grande passo avanti rispetto a tutta l'umanità precedente l'invenzione del telave meccanico e della macchina a vapore cambiano le condizioni di vita perché le lenzuola fatte col telave meccanico sono molto di più costano di meno durano di più dalle lenzuola tessute a mano e lo stesso vale per il mezzo di trasporto del treno che diventa il primo mezzo di trasporto democratico perché fino a quando si va o a piedi o a cavallo chi è povero non può competere con chi è lì mentre se c'è il treno ci sarà la prima la seconda la terza classe più o meno comode ma si arriva tutti insieme si parte tutte la stessa ora si arriva tutte la stessa ora quindi la velocità e la distanza diventano pari è una grandissima forma di eguaglianza sul rapporto col territorio non è una cosa da poco non è un particolare di poco conto allora se siamo nel bel mezzo di una crisi di un sistema così del quale ho accennato solo rapidissimamente solo il prezzo principale che è quello dell'applicazione delle macchine alla produzione che cosa può succedere dalla sua crisi visto che molti economisti sostengono ammettono convengono che questo sistema è in crisi cosa vuol dire crisi? come sapete questa parola viene dal greco c'è il verbo creden che vuol dire giudicare quindi crisi vorrebbe dire un momento di giudizio un momento di dubbio un momento di incertezza in cui c'è una specie di spaccatura in una specie di continuità del pensiero dice no qui c'è un punto che non si capisce crisi allora questa crisi viene detta strutturale vuol dire che riguarda il meccanismo fondamentale non è un aspetto particolare se c'è una crisi strutturale di questo sistema bisognerà sapere come replicare e qui invece casca l'asena come si suol dire proverbialmente cioè quasi tutti dicono semplicemente c'è la crisi c'è la crisi sta per finire c'è la fine del tunnel vengono adoperate immagini un po' così semplificate ma anche poco significative e tuttavia questa crisi non finisce mai perché in effetti siccome in crisi è il meccanismo strutturale il meccanismo fondativo del sistema non è possibile che finisca così semplicemente addirittura c'è chi ha studiato che cosa può succedere se non si fa niente perché qualcuno può dire vabbè sei in crisi basta stare fermi finirà da solo insomma se non si interviene invece no Rosa Luxemburg che ha studiato molto per l'appunto il capitalismo e le sue crisi dice che nel momento in cui la crisi diventa veramente strutturale il capitalismo non è più riformabile dunque i dibattiti su quello lì è riformista quello lì meno io comunque lì ci sto non so sono assolutamente infondate senza alcun significato perché tu puoi batterti contro il riformismo ma tanto il riformismo è impossibile quindi molto meglio trovare qualche cosa quindi c'è aspetto no perché se aspetti Rosa Luxemburg appunto non solo lei ma lei in particolare ha trovato che il meccanismo del capitalismo in crisi non reversibile se non tu cominci a costruire l'alternativa passa alla barbarie socialismo barbarie è un famoso dilemma che appunto a lei si attribuisce nel senso che se tu lasci andare la crisi capitalistica per conto suo non fai niente la guardi passivamente questa crisi non produce il superamento del capitalismo produce la barbarie non c'è bisogno di dimostrazione di socialismo neanche l'ombra da barbarie basta aprire gli occhi ti salta addosso addirittura allora che fare a questo punto c'è qualcuno che ripropone una qualche ricetta unificante facciamo così facciamo questo governo facciamo questa legge elettorale facciamo tutte risposte straordinariamente piccole modeste anche un po' meschine di fronte alla grandezza della crisi che vediamo io quasi sono stupita che sta succedendo quello che sta succedendo e gli schermi televisivi italiani stanno occupati serata intere a discutere se aveva ragione Renzi o un suo tirapiedi a dire una cosa contraddire l'altra stupidaggine veramente cose che persino a me che sono allenata alla stupidità non mi riesce di raggiungere in fondo spengo lo schermo televisivo proprio quando ci sono i talk show le cose più importanti politicamente che la nostra televisione sembra inventare per annoreare le nostre serate ma allora che fare davvero di questo magari possiamo parlare anche discutendo poi ma l'importante è che ci si renda conto che quando un sistema così impegnativo come il capitalismo diffuso su tutto il pianeta in crisi strutturale si trova appunto in condizioni di non poter più essere riformato bisogna cominciare a costruire l'alternativa e cosa può essere l'alternativa e ci sono indicazioni che sia il momento di cominciare a studiare le indicazioni ci sono perché per l'appunto o socialismo o barbarie o l'alternativa o voi noi assistiamo passivamente a venire avanti la barbarie ed è una barbarie che fa paura non solo per i rapporti interpersonali che si incattiviscono sono retti dalla vendetta da sentimenti neri opachi meschili scuri ma addirittura per il fatto che un pazzo diventa l'uomo più potente del mondo che il capitalismo ha una classe dirigente che non è più in grado di selezionare perché se negli Stati Uniti è al potere Trump se di fronte a lui c'è una specie di bamboccio obeso che lancia missili nel cielo non sapendo nemmeno quello che fa e se andiamo a vedere non è che poi Hollande fosse tanto meglio non parliamo della nostra classe dirigente insomma il sistema capitalistico non pare più in grado di selezionare una classe dirigente decente al suo livello e quindi noi ci troviamo nelle mani di chi siccome non ha più capacità di pensiero ma ha in mano strumenti enormi può benissimo persino per sbaglio far partire una guerra atomica la guerra atomica può partire persino per errore e la guerra atomica è la fine del mondo lo sappiamo oramai sapete che c'è questa curiosa cosa che è stato dimostrato è stato calcolato che tutto ciò che sta negli arsenali atomici è in grado di distruggere undici volte il pianeta la stessa espressione è irragionevole perché quando una cosa è distrutta una volta è distrutta non può più distruggere ma addirittura sarebbe il grado di distruggere undici volte il pianeta quindi ripetere questa attività distruttiva anche su altri undici non so come dire undici obiettivi non so se mercurio venere marte non saprei insomma allora non è possibile farsi qualche domanda sì per esempio invece di continuare a sparare missili verso il cielo con un'operazione che assomiglia molto a un'operazione che riguarda l'organo sessuale maschile una cosa che si alza e spara non sarebbe meglio invece cominciare a vedere se non è possibile coltivare il fondo del mare perché il mare continuiamo a inquinarlo perciò rendiamo meno quello che eventualmente può fornirci di cibo ma in più addirittura inaridiamo le radici di questo cibo rendiamo addirittura inabitabile anche agli stessi pesci l'acqua del mare eppure oppure assistiamo al cambiamento climatico e non ci accorgiamo che se non cominciamo a rimboschire tutta la rossale appenninica la rossale appenninica frana e frana la prima acquazione che viene se frana la rossale appenninica è un bel guaio insomma non ci accorgiamo proprio perché non applichiamo la nostra testa a fare un'analisi del reale non ci accorgiamo che c'è la crisi dell'industrialismo capitalistico perché oramai basta solo che inventino le carrozzelle a motore per i neonati poi non so che cosa c'è ancora da motorizzare evidentemente siamo arrivati a un limite io sono molto interessata ho quasi finito di esporre dopo così poi discutiamo sono molto interessata all'idea di limite ma siccome io ho fatto studi di carattere storico letterario per me il limite è la siepe dell'infinito sempre calmi fugo esterno colle è questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude infatti è un limite che esclude però è un limite romanticamente dolce ma di là da quella io in terminati spazi posso immaginarmi so che il limite in fisica in chimica in matematica vuol dire altra cosa ma comunque anche così anche interpretato leoquardianamente il limite indica qualche cosa che mette un po' fuori gioco il sistema c'è un altro poeta italiano che ha detto cose più dure del limite non tale e dice è tutta la vita una muraglia che ha in cima cocci a guzzi di bottiglia è un limite altrimenti difficile una muraglia anche prendendo la zucca non è tanto facile abbattere in più se per caso ce la fai ad arrampicarti di su sopra ci sono cocci a guzzi di bottiglia non sembra neanche italiano la U e la Z sono suoni rari nella nostra lingua che ha colori e suoni molto più più dolci più melodici cocci a guzzi cosa fai tu allora non sai più niente non sai cosa fare Montale ti dice cerca la maglia rotta della rete perché non è possibile che l'universo sia questa cosa irrazionale che si rappresenta nell'immagine della muraglia che è in cima cocci a guzzi di bottiglia ci deve essere una maglia rotta nella rete cerca la maglia rotta nella rete allora ecco un bel programma politico se noi andiamo cercando tutte le maglie rotte nei ragionamenti che ci vengono ammanniti nei dibattiti televisivi che sentiamo e che ci annoiano probabilmente troviamo qualche cosa e cosa facciamo di queste maglie rotte nella rete bisognerà metterle in comunicazione così ovviamente ciascuno trova la sua maglia rotta la mette in comunicazione sull'altro ci fa il suo partito e le due maglie rotte no non questo perché costruire un partito vuol dire tornare indietro nelle forme dell'organizzazione politica bisogna inventare qualche cosa di nuovo per agire perché non è più possibile agire perché se si comincia a pensare di metterli in fila ritorniamo al patriarcato cioè a qualche cosa dove c'è uno che conta più degli altri quello uno è maschio e ritorniamo all'obiezione che ho già fatto prima se invece noi pensiamo a una una forma di azione comune che non non fa la concorrenza che è una cosa mercantile ma cerca la convenzione se non ci vediamo di mettere d'accordo sulle cose su cui siamo d'accordo le elenchiamo sono una due tre e su quella prendiamo gli accordi di tempo di luogo può darsi che qualcosa riusciamo a fare e mettendo insieme molte reti e connettendole facendo una convenzione in questo modo riusciamo a intervenire nell'azione politica senza ripetere le forme mercantili che il capitalismo per di più in crisi ci suggerisce bisogna trovare altre forme e dove si trova il modello di questa diversa azione politica noi siamo abituati a studiare solo l'economia della produzione perché la produzione di merce attraverso le macchine è il clou del capitalismo ma non c'è solo quella forma c'è anche la riproduzione e la riproduzione biologica è cosa diversa eppure vorreste dire che non fa parte dell'economia se le donne smettono di riprodurre bambini finisce il mondo in due generazioni quindi è un'importantissima attività umana e che caratteristiche ha può essere governato dal mercato no perché non produce merce riprodurre la specie vuol dire produrre bambini bambine non che non sono merci e quindi bisogna trovare altri criteri non è possibile che chi entra fa parte di questa economia della riproduzione sia considerata semplicemente o parassita o che per ruolo deve fare quelle cose come si sa a una donna mi è sempre richiesto che faccia anche i bambini e gli allevi che poi eventualmente li curi fino a quando sono grandi che poi non dimentichi nemmeno i vecchi e vecchissimi e tutto ciò naturalmente continuando a essere bella gradevole ben vestita e anche apprezzabile accettabile usabile diciamo così fino a quando proprio non casca giù dalla sedia per la fatica diventata un po' scema diventano inevitabilmente le casalini che sono talmente prese dal loro ruolo che non si accorrono nemmeno che stanno lavando un piatto mentre gli casca in testa la casa allora è possibile mai che noi non prendiamo in considerazione questa economia della riproduzione che è la salvezza dell'umanità e nel nostro tempo comporta un governo una conoscenza e anche un dominio delle nostre caratteristiche perché sicuramente questa economia della riproduzione non può essere lasciata alla sua spontaneità sapete c'è questa legge diciamo religiosa che tutti tutti i bambini che vengono concepiti i bambini e i bambini che vengono concepiti devono essere lasciati nascere bisogna intervenire prima bisogna regolare la riproduzione questa è una cosa fondamentalissima deve entrare nel codice etico di ciascuno e ciascuna i metodi poi ciascuno se li troverà li sfuggirà ce n'è più di uno ma in ogni caso l'idea che si possa lasciare la riproduzione andare avanti così come capita è insensata quando un papa elogia la sette miliardesima bambina che nasce nel corno d'Africa sa che elogia una bambina destinata a morire di fame è inutile che continui a ripetere la sua benedizione che la benedizione non copre l'ingiustizia del fatto che non ha detto come si sarebbe potuto o farla nascere in un mondo che ha da dare da mangiare o aspettare a mettere al mondo fino a che quel mondo non c'è succede allora che se una specie umana non si ripromette di governare tutta se stessa non soltanto quella parte di sé che serve per la produzione ma anche quella parte di sé che serve per la riproduzione cioè se noi non diventiamo padrone e padroni proprietarie e proprietarie utenti massi e femmine di tutte e tutti noi stessi l'interezza della persona umana questo mondo è destinato a morire malamente di incendio di guerra di torture di cattiveria è sotto gli occhi di tutti noi vediamo ogni giorno c'è qualche delitto insensato qualcuno che scende in strada spara i primi che incontra butta giù del treno che gli attraversa insomma c'è un'insensatezza dell'operatività del male che segnala anche questo e se può nel suo negativo che persino il male ha un timbro più meschino e più barbaro di quanto non avesse il buon male classico che ti dà una sberla oppure ti mettono ho finito sì ti mettono il castigo ti metto in prigione allora da tutto questo viene la domanda ma non sarà poi vero quello che la Mena Pace così azzardatamente sostiene e cioè che il nemico principale l'avversario principale è il monoteismo cioè una visione del mondo fondata sull'uno perché al massimo nella sua forma meno dannosa questa visione produce il patriarcato e il patriarcato vediamo già quanto ci dà fastidio perché è appunto quello che cancella tutte noi che siamo la maggioranza e continua a imperversare dicendo anche delle sciocchezze ma siccome lo dice dall'altro della sua primazia viene anche applaudito allora io propongo che ci mettiamo a studiare un po' come sia possibile anche interrogarsi su questa completezza e trovo che la laicità cioè la capacità di sottoporre al vaglio delle nostre molteplici ragioni dei nostri modi di ragionare dei nostri dialetti lingue atteggiamenti comportamenti filosofie sociologie pensieri programmi scolastici tutto il mondo tutto il pianeta oppure non ne usciamo suscitare la vostra più aperta curiosità è la mia grande intenzione vado in giro come una vagabonda qualsiasi per il mondo per il mondo cioè per dire il contento dell'Italia per intanto poi si vedrà quando avrò 150 anni dove andrò a dire questo insomma cercate di essere un po' curiosi un po' curiosi non accontentatevi di quello che dicono i giornali sia televisivi che no dicono generalmente le sciocchezze non lasciamoci gargugliare la mente dalle stupidate che ne diamo sui giornali anche una bella risata e uno sberleffo molte volte sono una cosa più intelligente di uno guarda un po' le cose successo lì io vado in giro appunto cercando di tenere viva la curiosità che è un senso di intelligenza e anche una azione politica appassionata ma non miserabile io non sono una che mi sacrifico come i sacrifici no 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 i sacrifici vengono già da sole non c'è bisogno di inventarli io preferisco sono una che va intorno a predicare la via alcolica al socialismo per esempio se si parla di socialismo che sia accompagnato anche non dall'alcolismo ma da un po' appunto da un po' di buone bevute sì perché no da qualche sberleffo anche da qualche battuta perché dobbiamo sempre essere lì col muso lungo e dice imitateci ma come imitateci brutti come il demonio tristi come una giornata di pioggia perché dovremmo imitarvi sarebbe molto meglio che dessino anche dimostrazione si può essere molto impegnate e impegnati politicamente addirittura rivoluzionari o pre-rivoluzionari io sono convinta che siamo in una situazione pre-rivoluzionaria senza nemmeno avere il muso anzi possibilmente ridendoci anche un po' su così spero che facciate anche voi vi ringrazio per l'ascosta ora c'è il secondo intervento e poi alla fine arrivo le domande grazie